Ciao, sono Luca Ruggeri, il tuo personal coach. Sei pronto ad allenarti con me? Tre esercizi per allenare intensamente. Il cuore, le gambe, le braccia e gli addominali. Ci metteremo solo 5 minuti, poi tu potrai ripetere il circuito fino a 5 volte. Incrementi il metabolismo con questo circuito. Iniziamo subito. Il primo esercizio è uno swing con il kettlebell. Se non hai un kettlebell, puoi usare tranquillamente un manubrio oppure un disco. Il secondo esercizio è dedicato agli addominali, si chiama Leg Rise. Appoggia con le mani a un sostegno, anche una spalliera. Solleva le gambe attivando tutto il corsetto addominale. Il terzo esercizio si chiama Deep. Ti appoggi con i palmi su un rialzo e se vuoi anche i piedi ed esegui dei piegamenti degli avambracci. Terminato il tuo workout, riposa 45 secondi e ripeti altre 4 volte il circuito. In 20 minuti avrai fatto un programma efficace e sicuramente molto stimolante per il tuo corpo. Se il video ti è piaciuto, clicca mi piace e condividilo. Grazie a tutti.